secondo spazio di telebari social night giuliana si è sentata momentaneamente sta terminando il montaggio di quello che è il servizio più atteso del web a quanto pare lo speciale la sad ma adesso qui in studio non aspettiamo mica lei andiamo avanti e vi recapitiamo un invito e commerce meeting 2024 think artificial il 19 aprile arriva a bari la terza edizione dell'e-commerce meeting relatori da tutta italia porteranno sul palco i nuovi trend delle soluzioni per l'e-commerce e spoiler che ci sono giunti all'orecchio ci dicono che ci sono ancora pochissimi posti per questo dedichiamo un focus all'e-commerce meeting che ormai una realtà è giunta la terza edizione sappiamo tutto ma proprio tutto in questo spazio do il bentornato ad anthony liuzzi hello grazie buonasera e giuseppe di stefano buonasera rispettivamente anthony il sio di alla seconda srl mentre giuseppe il cto che vuol dire cto e mi occupo di tutta la parte tecnologica diciamo della dell'agenzia alla seconda srl il countdown è partito lo abbiamo vissuto sui social mancano veramente pochi giorni c'è spazio però al per le ultime iscrizioni siamo veramente alle ultime battute le ultime battute penso che siamo quasi vicine sold out in questo momento però c'è ancora qualche posto giuseppe dal punto di vista tecnologico cosa si imparerà in questo terzo meeting beh il terzo meeting sarà sarà importante perché si parlerà di intelligenza artificiale applicata all'e-commerce ma non solo anche per tutto quello che riguarda la la promozione online quindi tutte tutte le piattaforme di pubblicità sempre applicata all'intelligenza artificiale quindi il focus principale sarà ovviamente l'intelligenza artificiale ma parleremo anche di altri altri argomenti come amazon o ricordiamo qualche altro magento parleremo di whatsapp business perché avrete degli speaker d'eccezione vogliamo ricordare qualche nome diciamo che quest'anno è stata un'edizione che ci ha permesso di crescere tanto rispetto alla scorsa perché dobbiamo innanzitutto ringraziare appunto il patrocinio che ci ha dato un'associazione nazionale che si chiama foricomed è un'associazione che mette in rete i fornitori in ambito e-commerce quindi c'è stata una grande apertura per questo per questo evento per questo territorio quindi a bari avremo tra i vari nomi davide casaleggio che diciamo del presidente della casaleggio associati e da anni ormai un punto di riferimento per chi fa e-commerce in quanto nel suo evento che propone ogni anno e-commerce italia rende pubbliche quelle che sono le statistiche degli avanzamenti dei trend delle osservatori commerce poi c'è francesco chiappini presidente dell'e-commerce school che forse una delle scuole più riconosciute come formatori di commerce manager in italia siamo sul vostro sito internet dove c'è il panel al completo degli speaker che parteciperanno come siamo messi qui a bari ci sono dei segni di evoluzione rispetto al passato devo dire che rispetto qualche anno fa gli eventi in ambito business digitale stanno crescendo tanto ovviamente si può fare sempre di più per la parte commerce credo che oltre al nostro ce ne siano forse un altro paio quindi ovviamente rispetto alla lombardia che una regione diciamo da prendere come esempio visto che è una terra dove si parla di digitali ogni giorno siamo ancora diciamo un po indietro però ci stiamo difendendo ogni anno cercando di proporre questo evento tra i tanti e devo dire se la risposta del relatore è questa perché non ci dà anche coraggio per andare avanti e proporre questo evento anche per le prossime edizioni giuseppe quali sono le fac che non sono le paro delle parolacce ma sono le domande che vi vengono poste più frequentemente in ambito in ambito e commerce certo come richieste di aiuto richieste di imparare qualcosa le difficoltà difficoltà maggiore proprio nella gestione del delle attività dell'e commerce quindi come gestire anche le attività quotidiane gestire l'ordine come gestire la customer care ma non solo anche tanti hanno difficoltà a far conoscere il proprio negozio online quindi non sanno come fare promozione online piuttosto che come a implementare la gestione dell'intelligenza artificiale all'interno delle attività di commerce ecco queste sono le domande più comuni che cerchiamo di rispondere con questo evento con i vari relatori ognuno nel suo nel suo settore nel suo ambito esperto nel suo ambito risponderà a tutte le domande che normalmente ci fanno quotidianamente a chi rivolgiamo l'invito ci sono ultimi posti per quali figure professionali magari è più giusto partecipare a questo meeting allora principalmente l'evento è al numero chiuso ed è stato voluto al numero chiuso perché perché un evento che serve in primis all'imprenditore cioè a chi fa commercio e chi si è lanciato si sta per lanciare nel passo del commercio digitale perché appunto è indirizzato l'imprenditore perché noi oltre a gli vari speech formativi abbiamo destinato tre momenti di networking proprio per fare rete tra imprese per approfondire le soluzioni in ambito e-commerce ma non solo anche cercare di creare delle collaborazioni faremo un business coffee all'arrivo quindi accoglieremo tutti alla alla meridionale maniera quindi c'è anche un party finale ho letto sì quello c'è il party finale che è una cosa in più che abbiamo voluto mettere quest'anno è per rendere l'esperienza di networking ancora più concreta alla fine con un open bar della musica live che fa sempre un po' puglia quando le cravate si slacciano un po e le camicie si escono dalla dai pantaloni l'hai detto tu fa un po puglia quindi ci sguazzo e dico uscite l'invito per me guardiamo una clip su not topic vabbos sono davide casaleggio da vent'anni ci occupiamo di studiare come le strategie del digitale stanno rivoluzionando l'economia italiana all'e commerce meeting 2024 approfondiremo come l'e commerce si stia rivoluzionando esso stesso grazie all'intelligenza artificiale non solo grazie a efficienze all'interno delle aziende dei processi che si sono accelerate di molto ma come nuovi modelli di business che si stanno affermando sul mercato seguiteci all'evento per capirne di più come arriva a vari questa partnership con casaleggio beh arriva proprio da un incontro in eventi in tutta l'italia dove noi gli abbiamo vi ha parlato di questo evento che facevamo a bari e gli abbiamo chiesto semplicemente di partecipare alla terza edizione lui è stato ben felice anche perché viene poco in puglia e quindi è un territorio diciamo da da scoprire visto che comunque nei suoi eventi molto spesso ci sono pugliesi in platea e quindi visto anche la crescita che sta avendo la puglia in ambito e commerce considera che settimana scorsa noi siamo stati nel suo evento e commerce italia e tra i dati statistici interessanti c'era che la puglia comunque presenta circa incide del 6,20 per cento dell'e commerce in tutto il territorio nazionale che non è un dato basso perché considera che è la seconda regione del a livello nazionale nel meridione quindi ovviamente è dietro a regioni come lazio la lombardia ma è seconda di delle regioni meridionali la campagna è la seconda a livello popolo nazionale della prima a livello meridionale giuseppe senza tecnicismi come possiamo unire l'intelligenza artificiale al mondo dell'e commerce un'unione tipo un'unione tipo ci sono diverse applicazioni che ti permettono di unire la tecnologia dell'intelligenza artificiale le attività che si fanno quotidianamente su una piattaforma e commerce ce ne sono veramente tantissime dalla generazione di testo descrittivo della scheda prodotto piuttosto che dall'applicazione che ti genera l'immagine del prodotto contestualizzato all'interno di un ambiente insomma le possibilità sono veramente infinite per ogni singola attività che l'e commerce comprende è possibile collegarla a un'intelligenza artificiale che faccia tutto in maniera autonoma o comunque con pochi input riesca ad ottenere risultati ottimali giuseppe se io andassi ad inserire nel mio curriculum la partecipazione a questo e commerce meeting sarebbe un valore in più sicuramente è un modo per imparare cose nuove quindi è sempre una cosa in più beh certo sì è sicuramente un valore aggiunto perché comunque ci saranno relatori conosciuti a livello nazionale relatori importanti che sono veramente degli esperti del settore quindi ognuno di loro darà delle chicche se vogliamo comunque durante il rispetto delle chicche dove ognuno di noi potrà prendere e mettere a curriculum molto di loro sono proprio formatori chiappini e commerce school agostinis meta expert che fa corsi di formazione per gli advertising manager quindi c'è tanta roba sul palco dell'e commerce meeting quest'anno ci si iscrive ultimi posti sul sito lo vogliamo ricordare io ce l'ho qui sotto www.e commerce meeting.it yes andate lì ci sono tutte le modalità di partecipazione 30 secondi so che nel backstage mi avete detto ci siamo preparati una risposta quindi io voglio farvela dare abbiamo reso noto un po i movimenti le migliorie che sono state fatte qui in puglia in basilicata come stiamo messi la basilicata c'è abbiamo trovato il dato c'è e quest'anno l'anno scorso eravamo meno preparati quest'anno lo siamo è lo 0,59 per cento dell'e commerce in italia sono in basilicata perfetto ci vediamo quando dove e a che ora venerdì 19 aprile dalle ore 9 partiamo con il welcome party fino alla sera in bocca al lupo all'e commerce meeting arrivato alla terza edizione grazie mille i nostri ospiti grazie poca pubblicità e poi la band più rivoluzionaria del mondo con sangue pugliese sarà qui su telebari social night